Quello che noi abbiamo fatto, che la mia generazione come quella di Baggio ha fatto, è che c'era tutto l'off pitch, diciamo così, quello che era il calcio di strada, il calcio con gli amici, il 2 contro 2, il 3 contro 3, il 10 contro 7 perché i 7 erano più bravi dei 10, tutte dinamiche che poi ti portano a giocare in superfici diverse perché la strada è diversa dal campo, perché il campo in terra è diverso dal campo in erba, eccetera, eccetera, condizioni diverse. E queste non sono altro che tipologie di esercizi che poi bene o male si cerca anche di ricreare oggi nelle squadre organizzate, però quelle ti danno tante ore di gioco e condizioni anomale che stuzzicano ovviamente la creatività, l'organizzazione interna perché poi ti devi organizzare, no? Questo ovviamente manca, lo stiamo dicendo da tantissimo tempo. Grande Del Piero, quello che dice, guardate che è molto importante anche per noi che ci occupiamo di riabilitazione, l'off pitch, fuori dal campo. È fondamentale introdurre la variabilità all'interno del percorso riabilitativo. Il paziente che fa terapia gli stessi giorni della settimana, le stesse ore. No, perché poi l'attenzione o le capacità durante la giornata sono diverse. Allora uno impara a gestire il proprio corpo in determinate condizioni, poi però quando si trova nel contesto reale non ha gli strumenti. Come i pazienti che dicono, no, io faccio terapia solo la mattina perché sto più in forma. Eh, però tu impari a gestire il tuo corpo quando sei in forma, però durante le ore in cui c'è un certo calo non hai gli strumenti per gestirlo. Però quella è la vita reale. Oppure fare terapia negli stessi ambienti, quelli protetti delle palestre riabilitative. Poi però basta cambiare leggermente il contesto e il paziente non riesce a rimettere in atto quello che ha imparato in palestra. Anche i pazienti che lavorano a casa, sempre negli stessi luoghi, bisogna cambiare contesto. E fare terapia anche fuori, magari camminare in un luogo dove, chissà, passano delle macchine, passa la gente. Certo, sempre in sicurezza, però questo ti mette nella condizione di dover affrontare la quotidianità, di dover dividere l'attenzione tra quello che è il controllo del corpo e quello che è il controllo del contesto. Potrebbe non essere assurdo fare qualche esercizio, per esempio, per la mano, anche seduti a un tavolino di un bar mentre aspettiamo un caffè. O allenarsi nel cammino non solo nei stessi ambienti casalinghi o nel corridoio della palestra, ma anche fuori, imparando a gestire anche lo sguardo degli altri su di noi. Spesso si vedono pazienti che hanno acquisito delle buonissime qualità del cammino e anche della gestione della mano, però poi immersi in un contesto realistico non riescono a dimostrare le stesse abilità. Allora la riabilitazione deve preparare queste persone a poter esprimere le proprie potenzialità in tutti i contesti. questa è la variabilità ed è proprio questa variabilità che è stata compromessa dall'ictus. Quindi variare contesti, variare orari, variare abitudini e non vivere la riabilitazione come un processo sterile, ma come dice Del Piero, creativo, perché recuperare significa apprendere in condizioni patologiche. E l'apprendimento richiede un po' di creatività.